TSD Week TSD Week Mille figuranti provenienti da Arezzo e dalle sue valli animeranno a Roma il corteo storico folcloristico che nel giorno dell'Epifania accompagnerà i remagi dal Santo Padre all'interno della manifestazione Viva la Befana. L'iniziativa giunta alla sua ventottesima edizione ha come obiettivo la promozione della pace, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, valorizzando l'Epifania dal punto di vista folcloristico e religioso. Il corteo storico folcloristico inizierà alle ore 10.40 precise e sfilerà a lungo via della conciliazione fino a Piazza San Pietro. Ci sarà una breve cerimonia dell'accoglienza con lo scambio dei doni. Dopodiché i remagi assisteranno insieme a tutti i partecipanti all'Angelus in Piazza San Pietro e dopo l'Angelus i 3 maggio accompagnati dal sindaco e dai dirigenti dell'associazione si regheranno alla Casa Pontificia per regare i tradizionali doni. Doni che sono stati realizzati seguendo una simbologia importante e quest'anno saranno dedicati proprio all'anno della fede. La città di Arezzo avrà una grandissima promozione perché è l'unica città d'Italia che quel giorno è l'unico territorio italiano che quel giorno sarà rappresentato. Avrà un'esposizione mediatica importantissima e soprattutto Arezzo sarà visto da tantissima gente lì. Si parla di centinaia di migliaia di persone. Quella del prossimo 6 gennaio sarà una giornata speciale non soltanto per il mondo del folklore ma anche per l'artigianato artistico locale. Può diventare un momento di valorizzazione del nostro artigianato artistico dal merletto al panno del casentino alla ceramica al ferro battuto ma anche agli oggetti in argento e oro. Quindi ci sembra importante che la città si presenti anche dal punto di vista delle sue produzioni artistiche che per l'altro hanno già un mercato a Roma perché questo potrebbe diventare anche un momento di richiamo verso il tanto pubblico di quel giorno. Anche il gruppo Cavaliere di Arezzo in visita al Santo Padre il prossimo 6 gennaio. Sì è veramente un onore partecipare a questa sfilata che vedrà la città di Arezzo appunto sfilare in occasione di questa manifestazione veramente importante. Il gruppo Cavaliere che tra l'altro quest'anno ha compiuto 25 anni per cui è un'ulteriore ciliegina da mettere in questi festeggiamenti. La formazione diciamo che parteciperà a questa trasferta è composta da una quindicina di persone. Ci sarà il portalabaro, gli scuglieri e tre cavalieri. Ecco si sa i tre cavalieri che ruolo impersonificheranno? Eh questo è un ulteriore onore per il gruppo Cavalieri perché saranno i tre re magi per l'occasione che poi andranno ad omaggiare appunto sua santità a Papa Benedetto XVI. E ti posso anche svelare i nomi diciamo? Sicuramente. Allora saranno Mario Capaci il presidente del gruppo, Paolo Parigi e Beppe Mori che tra l'altro sono tre dei cavalieri che hanno a suo tempo fondato possiamo dire i Cavalieri di Arezzo. Sono un vero e proprio esercito senza dubbio la più grande nuova industria della provincia di Arezzo. Le badanti. Il lavoro di cura in ambito domiciliare ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita fortissima e si stima che occupi oramai tra le 15.000 e le 19.000 persone. Il numero delle collaboratrici e dei collaboratori familiari registrati all'Inps di Arezzo a fine 2010 sono oltre 6.350 ma sulla base della rilevazione effettuata da Caritas e Distat la quota del lavoro emerso corrisponde a circa solo tre decimi del totale. La cooperativa Retina Coine ha messo a punto un progetto, il filo di Arianna, per promuovere l'innovazione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi domiciliari. Un primo protocollo di intesa è stato siglato tra Coine e CGL. Scopo del progetto è in particolare far emergere e qualificare il lavoro delle collaboratrici familiari, le cosiddette badanti, che oggi è molto spesso prodotto in maniera irregolare fuori da qualsiasi tipo di controllo, qualificando donne disoccupate di lungo periodo e con titoli scolastici modesti o non spendibili, formandole, avviandole alla creazione di impresa e mettendo questi nuovi soggetti collettivi in rete con gli operatori professionali che già operano per le cooperative sociali, in particolare in tutto il territorio della provincia. L'altra questione per la quale ci sentiamo di condividere questo percorso riguarda il fatto che saremo in condizione di offrire anche a un cospicuo numero di persone che sono sostanzialmente donne sopra 45 anni, che sono uscite dal mercato del lavoro e che oggi rispetto ai nostri tempi sono di difficile ricollocazione rispetto appunto al mercato del lavoro, offrire a queste persone la possibilità di un lavoro qualificato, regolarizzato, corretto. Si chiama Paccomamma e sarà regalato a tutti i nuovi nati del comune di Monte San Savino. L'iniziativa prende spunto da un progetto europeo sulle buone pratiche amministrative sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per ogni nuovo nato la mamma riceverà a caso una lettera dell'amministrazione comunale con la quale potrà presentarsi alla farmacia per ritirare il pacco contenente prodotti per la prima infanzia per un valore di circa 50 euro. Un gesto d'attenzione alla maternità non scontato in tempi di crisi. Il comune savinese è il secondo ad aderire al progetto nell'Aretino dopo quello di Civitella. In questo caso si tratta proprio dell'aver recepito delle buone prassi apprese in Finlandia. Abbiamo partecipato a un progetto europeo, la conciliazione possibile, dove abbiamo appreso che lassù viene donato un pacco dono ad ogni bambino nato, lo Stato lo offre, per affermare il diritto soggettivo del bambino, quindi di concentrare l'attenzione su quelli che sono i bisogni del bambino, quindi il bisogno di cura, di assistenza, di educazione e di istruzione, senza chiaramente tralasciare quelli che sono anche i bisogni dei genitori, ma principalmente concentrarsi su questo. Mi è piaciuta molto questa cosa e ho pensato di riproporre quest'idea anche sul nostro territorio. La nostra intenzione è mettere anche la Costituzione italiana, visto che tutti ne parlano, ma sono veramente pochi quelli che la conoscono. È un segnale di attenzione nei confronti delle mamme, ma è soprattutto un benvenuto ai nuovi nostri piccoli cittadini, che quindi devono avere non solo i prodotti per la prima infanzia, ma anche quest'aspetto istituzionale e culturale che li possa accompagnare e dare appunto il benvenuto al momento della loro nascita. Resta uno dei servizi più richiesti dagli utenti della Uslotto. Sulle sue funzioni spesso si fa confusione. Parliamo della guardia medica, o meglio del servizio di continuità assistenziale, una realtà in via di riorganizzazione sia a livello regionale che retino. L'azienda Uslotto ha annunciato il nuovo orario di attività. Con il 2013 il servizio torna, come negli anni passati, in funzione anche nelle due ore del sabato mattina, che venivano coperte dai medici di famiglia. Ecco quindi il nuovo orario di servizio, tutti i giorni dalle 20 alle 8 del mattino, poi i festivi e il sabato dalle 8 alle 20, comprendendo in buona sostanza l'intero arco orario delle 24 ore. Di fatto, nel fine settimana il servizio è attivo ininterrottamente dalle 20 del venerdì alle 8 del lunedì. In una nota stampa, la Uslotto ricorda che il medico di guardia non ha funzioni di emergenza urgenza, per il quale esiste il servizio 118. Il medico di continuità assistenziale garantisce l'assistenza medica di primo livello gratuita a tutta la popolazione, a domicilio e attraverso l'espletamento di attività ambulatoriale per situazioni cliniche che si verificano al di fuori degli orari di attività del medico di assistenza primaria. I medici possono prescrivere farmaci indicati per terapia d'urgenza, possono rilasciare certificati di malattia in caso di stretta necessità e per un periodo massimo di tre giorni. Infine, hanno la facoltà di disporre il ricovero in ospedale del paziente. Sono 18 per ogni turno in tutta la provincia di Arezzo, distribuiti su 14 sedi. Sono trascorsi due anni dal crollo che coinvolse la diga di Montedoglio. Era la notte del 29 dicembre 2010 quando una parte della parete di sfioro si staccò. A 24 mesi di distanza una sola cosa certa è emersa. Si tratta di quanto rivelato dalla commissione di indagine guidata da Enzo Boschi, il cemento con il quale la parete della diga è stata costruita era di scarsa qualità. Al momento dell'incidente il bacino artificiale aveva raggiunto la portata di oltre 130 milioni di metri cubi di acqua. Con il cedimento se ne riversarono a valle oltre 600 metri cubi al secondo, allagando campi, aziende agricole e costringendo all'evacuazione 400 persone. Nei mesi successivi il livello dell'invaso scese notevolmente per poi risalire solo con le abbondanti piogge delle scorse settimane. Nel frattempo al vecchio ente irrigua è subentrato l'ente Acque e Umbre Toscane, un nuovo ente gestore della diga attorno al quale sono divampate da subito le polemiche legate alle nomine del Consiglio di Amministrazione, con la Valtiberina mobilitata per avere un proprio rappresentante. Una partita che ha visto l'intera vallata unita con il sindaco Daniela Frullani in prima fila. Lo stesso presidente della regione toscana Enrico Rossi aveva aperto uno spiraglio «Se la Valtiberina ha un nome condiviso per il CDA di Ente Acque, io non farò che prenderne atto». Dall'ora però solo silenzio. Sulla vicenda è arrivata nei giorni scorsi la presa di posizione di Lucia Tanti, capogruppo PDL in Consiglio Provinciale. Perdere la partita su Montedoglio sarebbe folle, sottolinea, e darebbe forza a chi ha sempre considerato un territorio di Serie B la Valtiberina. A due anni dell'incidente rischiamo di vedere compromessi passi avanti che, seppure con molta fatica, avevamo fatto. Mi aspetto che da parte di tutti si riprende in mano la questione. Non una discriminazione, ma un semplice errore attorno al quale stava per montare un vero e proprio caso politico. Può essere sintetizzata così la vicenda che ha visto protagonista, a suo malgrado, una bambina disabile di sei anni. A spiegare l'episodio con una nota stampa sono i responsabili della catena UCI. La bimba nei giorni scorsi si era presentata alla multisala di Arezzo per assistere ad una pellicola prevista per le 15. Alla famiglia erano stati venduti tre biglietti per lo spettacolo successivo delle 17.20. I posti per disabili per i loro accompagnatori, infatti, sono limitati e quelli per il primo spettacolo pomeridiano erano già stati assegnati. A questo punto l'errore, una svista che i responsabili della multisala spiegano dovuta all'eccezionale affluenza della giornata festiva. Il personale addetto allo strappo dei biglietti non si era accorto che stava consentendo l'accesso a fronte di tre biglietti per lo spettacolo successivo. Anche i genitori della bimba non avevano notato l'orario indicato sui propri tagliandi. Arrivati nella sala avevano fatto accomodare la figlia in una poltrona diversa da quella predisposta per i disabili. Resisi conto della situazione, le maschere hanno chiesto alla famiglia di uscire dalla sala. Nessuna minaccia, sottolineano da UCI, un simile comportamento, si legge nella nota, non rientra nella ordinaria prassi della nostra società. Inoltre, la necessità di una tale minaccia non sussiste quando ci si trova di fronte a persone di buonsenso e comprensive come i genitori della bimba. A questo punto una riflessione viene spontanea. Perché tanta confusione? E soprattutto, era proprio necessario, pensando al bene della bambina, dare così tanta evidenza anche attraverso i social network a questa vicenda? Torna il percorso di formazione della Caritas diocesana nelle zone pastorali della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Anche quest'anno la Caritas scommette sulla formazione. Sì, diciamo che con continuità con il percorso formativo iniziato nell'anno pastorale scorso e dopo l'assemblea delle Caritas parrocchiali che abbiamo fatto nel mese di novembre a Sansepolcro, dal mese di gennaio incominciamo questi incontri formativi che in totale sono 21 incontri, 3 incontri in ogni zona pastorale, dove raduneremo le Caritas parrocchiali presenti in ogni zona della nostra diocesi, appunto per verificare anche il cammino che nei territori viene fatto in ordine alla carità e soprattutto anche per cercare di aiutare le Caritas parrocchiali a relazionarsi, a rapportarsi meglio anche con i servizi, tutte le attività che la Caritas diocesana propone nel territorio, dal nostro fondo di solidarietà che è aperto anche alle parrocchie, quindi interagire con loro su quali sono anche le modalità di accesso per il fondo di solidarietà stesso o comunque anche per tutte le altre attività, dall'accoglienza, dal centro di ascolto. Ecco, sull'ascolto insisteremo ancora molto nella formazione perché è appunto il punto cardine di un'attività Caritas anche in parrocchia. Ecco, quali saranno i primi appuntamenti? Nel mese di gennaio sono tre gli appuntamenti, il primo è presso la parrocchia di San Leo per la zona pastorale di Arezzo, il martedì 15 gennaio alle ore 18, poi proseguiremo con Cortona, la zona del Cortonese, il 21 di gennaio e il 29 di gennaio siamo nella zona della Valdichiana a Lucignano per quelle parrocchie di quel territorio. Un'occasione per conoscere il quotidiano nazionale dei cattolici e arricchire l'informazione dei lettori del settimanale delle diocesi toscane assieme al fascicolo a retino. Questo è il senso della nuova iniziativa lanciata da Avvenire e Toscana Oggi. Chi rinnovo sottoscrive un nuovo abbonamento al settimanale entro il 15 gennaio riceverà a casa gratuitamente per tre mesi dal martedì al venerdì anche il quotidiano Avvenire. La democrazia informativa è in pericolo, il grande pubblico non se ne accorge, ma rischiamo di trovarci solo con pochi giornali disponibili in edicola. Questo è l'allarme lanciato recentemente da Francesco Zanotti, presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Attivare o rinnovare un abbonamento a Toscana Oggi con il fascicolo diocesano della voce di Arezzo Cortona Sansepolcro significa anche sostenere un'informazione alternativa che ogni settimana dà spazio a persone e realtà che restano troppo spesso invisibili. Un impegno che nell'ultimo anno è cresciuto con il nuovo sito web toscanaoggi.it è la nascita del consorzio che riunisce la nostra emittente Il Settimanale e TV Prato. 16 le edizioni locali pubblicate ogni settimana, 8 le pagine realizzate dalla redazione di Arezzo a cui si aggiungono le 24 del fascicolo generale. Una voce che può continuare a dire la propria solo con il contributo dei suoi lettori. Un modo di fare informazione che il primo direttore di Toscana Oggi, Alberto Migone, definiva in un editoriale pubblicato sul numero inaugurale del settimanale nel 1984 come caratterizzato da una dimensione formativa. Aiutare a realizzare quella civiltà del pensiero di cui si sente immensamente bisogno di fronte ai pericoli della distrazione e della superficialità. È la fatica del ben pensare e del pensare grande a cui siamo sempre più chiamati. La questione dell'aeroporto retino di Molin Bianco sembra non avere fine. L'ultimo progetto di ampliamento è stato presentato presso la regione toscana dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e prevede l'allungamento della pista di ulteriori 390 metri rispetto ai 650 attuali. Motivo? Un migliore svolgimento del servizio commerciale di aerotaxi. Ad opporsi, ancora una volta, il capogruppo IDV in consiglio comunale Roberto Barone. Non è un adeguamento ma noi lo definiamo come potenziamento, visto che il servizio di aerotaxi, almeno ufficialmente presso quell'infrastruttura, non viene svolto. Quindi è esattamente l'incontrario, cioè l'ENAC intende allungare la pista per favorire il servizio di aerotaxi. Noi ci domandiamo a favore di chi? È semplice. Oggi esiste una società che si chiama SAA che ha proprio questa ambizione di attrarre traffico di aerotaxi presso quell'infrastruttura per guadagnare come vorrebbe fare qualsiasi società. Il comitato che si oppone all'ampiamento della struttura ha presentato una lista di 11 osservazioni per argomentare la propria posizione. Una tra tutte il diktat del piano strutturale, approvato dal comune di Arezzo, che vieta qualsiasi ampiamento per l'avvicinanza di agglomerati abitativi in zona tortaia, alla linea ferroviaria dell'LFI e al polo produttivo di Pescaiola. Il piano strutturale prevedeva addirittura al posto di quell'aeroporto un parco, parco urbano di moli in bianco e addirittura prevedeva quindi per fare tutto ciò di fare un piano economico trasportistico in base al quale capire se per i cittadini aretini e per la città di Arezzo è necessario o meno avere un aeroporto in casa e a questo punto se proprio era necessario non sarebbe stato in casa però. Probabilmente l'obiettivo si sarebbe spostato in un ambito più interregionale che non ambito comune di Arezzo. Meno reati e furti in aumento. Il 2012 si è tendenzialmente chiuso in positivo per la provincia di Arezzo, mille reati in meno rispetto all'anno precedente. E' questo il bilancio presentato dal questore di Arezzo, Felicia Donnizio. Sono in aumento solo i furti che nell'ultimo anno sono passati da 5.056 a 5.799. I reati sono pressoché tutti in calo nel numero generale, cioè siamo intorno a un calo riferito all'8%. In questo contesto di calo però ci sono degli aumenti e gli aumenti riguardano i furti sia in abitazioni di auto e su auto con una percentuale inferiore per quello che riguarda la città, mentre superiore, leggermente superiore per quello che riguarda la provincia. Facendo poi un'analisi per quello che riguarda l'attività di contrasto, diciamo che più di un terzo di questi reati sono scoperti con arresto o denunce a piede libero dei responsabili. A questo proposito, Donnizio sottolinea la necessità di una maggiore attenzione da parte dei cittadini perché non lasciano abitazione ed automobili incustoditi. Capito la parte, quello riguardante l'attività di controllo nella notte di Capodanno, molti casi di abuso di alcol, soprattutto tra i minori. 68 persone sono state curate al pronto soccorso, di questi 68 erano in coma etilico. Ci suggerisce la necessità di un incremento dell'attività di contrasto alle vendite non in norma. Grazie. Grazie.